Il Tar ha invitato le parti a trovare un accordo entro il 20 di aprile, ha sospeso il giudizio e quindi i gestori e i proprietari di campeggi, campeggiatori, avvocati, comune di seo e sovrintendenza dovranno sedersi allo stesso tavolo. Per i campeggi l'obiettivo è chiedere l'autorizzazione alla sovrintendenza ai beni ambientali, la stessa che ha concesso ad altre strutture, a mantenere gli allestimenti ad oggi contestati proprio perché privi di questa autorizzazione ambientale che nessuno pare abbia mai chiesto ai gestori al momento della presentazione del progetto del loro campeggio. Il problema autorizzazione nasce nel 2013 quando la sovrintendenza invita i comuni a fare un controllo nei campeggi alla ricerca di problemi paesaggistici e qualche piazzola risulta in effetti sprovvista di abitazione ambientale. Bastava invitarci a fare richiesta per ottenerla, affermano i gestori di otto campeggi, che invece si sono visti recapitare l'ordinanza del comune di seo che chiede di demolire 576 allestimenti tra verande di tela e preingressi di legno e poi di riallestirli ad autorizzazione ambientale ricevuta. Ma questo, dicono i campeggiatori, comporterebbe una potenziale perdita di circa 3.000 turisti nella stagione primaverile ed estiva. La questione negli anni passata era arrivata anche alla Camera con il parlamentare Camuno della Lega Nord Davide Icaparini, che aveva presentato un progetto di legge. Ma il problema per i campeggiatori è quello di non essere giuridicamente riconosciuti, di essere soggetti sconosciuti. Infatti le piazzone non sono assimilate per legge alle costruzioni edilizie, ma non accompagnano nemmeno in altre definizioni. La cune, che solo seduti ad un tavolo, comune sovrintendenza e gestori, dovranno colmare con un accordo che soddisfi tutte le parti. Questa almeno la richiesta del TAR a cui i gestori dei campeggi, protagonisti della protesta di domenica scorsa a Iseo, si erano rivolti contro l'ordinanza comunale.